Sembrano saltare le nozze tra la bellissima Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato Ignazio Moser, parte della colpa sarebbe della sorella Belen. In queste settimane la coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è spesso finita al centro della cronaca rosa. Si parlato molto infatti di una possibile crisi tra i due, cosa che però i loro profili Instagram sembrerebbero scongiurare, visto che pubblicano quotidianamente foto in cui si scambiano tenere e fusioni. Poi ci si è messa anche una possibile partecipazione del ciclista all'Isola dei Famosi, che avrebbe scatenato la gelosia della più piccola delle sorelle Rodriguez. Ma niente sembrerebbe scalfire il loro amore. Peccato però, che le nozze tra i due sembrerebbero comunque vicine all'annullamento. I motivi sarebbero due, e uno di questi sarebbe colpa della più nota sorella Belen che è incinta per la seconda volta. Ormai è una delle coppie più conosciute nel panorama della cronaca rosa quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due, innamoratosi all'interno della casa del grande fratello Vip, sembrerebbero pronti al grande passo, pianificando il loro matrimonio. Ma due cose sembrano mettersi di traverso. Infatti, secondo quanto rivelato dal settimanale novella 2000 minuti, il primo, ovvio, motivo del rinvio delle nozze sarebbe legato alla pandemia. La situazione attuale non permetterebbe di festeggiare come dovuto, così preferirebbero rimandare. Inoltre c'è da calcolare anche la situazione legata alla sorella Belen. Infatti la prossima nascita della piccola Luna Marie, figlia di Belen e Antonino Spinalbese, porterebbe i due ad aspettare per convolare a nozze. Dunque nessuna crisi in corso tra i due, ma solamente qualche imprevisto dovuto alla situazione mondiale e anche alla seconda nipotina in arrivo che porta al rinvio.